Ciao a tutti ragazzi, siamo sul fiume Tronco, a D'Arcoli vicino, e al D'Arcolancio siamo usciti a prendere questa bellissima Iridea. Ora la liberiamo. Grazie a tutti. La pesca sul fiume è molto stancante. Adesso ci mangiamo un panino e poi dopo andiamo a pescare. Però mi raccomando, gli scarpi non buttateli per terra, però mettetemi sempre in tasca che come fai gioia. Grazie a tutti Grazie a tutti La giornata è finita e stiamo andando all'auto Come avete visto la giornata non è stata affatto facile Però siamo riusciti comunque a portare qualcosa a Guadino Ci vediamo alla prossima avventura